Buongiorno ragazzi sono le 9.38, giovedì 3 marzo, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Oggi intanto una riflessione interessante, subito pronti via, perché oggi proprio è uno di quei giorni, pochissimi giorni in cui mi sono alzato e ho detto ma oggi di che cazzo parlo nel podcast? Solitamente mi viene sempre in mente qualcosa mentre faccio colazione o mentre mi vesto, mentre guardo fuori dalla finestra, oppure durante la notte o sempre dico vabbè ci parlo di questo fatto, magari quando inizio a parlare mi viene in mente altro, perché? Perché poi quando hai la tranquillità di sapere cosa dire te ne fotti, sai che sei libero e ti viene in mente altro, perché apri la mente e non la costringi più nel dover pensare se sai, sai la libertà, se hai la consapevolezza di avere già il culo parato, tra virgolette, riesci a liberarti la mente e avere un sacco di altre idee, quindi solitamente quando parto e non so cosa dire è male però quando mi viene in mente anche una stronzata da dire, dico ok faccio l'episodio su quello poi quando parto mi viene in mente un mondo di cose ed è bellissimo perché vuol dire che andando avanti col tempo ho imparato veramente l'arte del trovare ispirazioni da qualsiasi parte, perché ormai sono quasi tre anni ragazzi dai due anni e mezzo che ho questo podcast e devo dire che effettivamente per quanto uno possa dire sì se è migliorato parlare, che è opinabile, è migliorata la qualità audio del podcast, lo spero perché adesso non registro più in macchina di fretta ma seduto tranquillo con microfono è migliorato anche il modo in cui lo pubblicizzi con titoli, tag eccetera secondo me è la cosa veramente che migliorate più di tutte e che forse voi non notate, non lo so è il fatto che mi viene veramente naturale trovare qualsiasi argomento da parlare anche un minuto prima di andare in diretta che è un po' quello che mi è successo oggi perché oggi volevo iniziare appunto l'episodio dicendo oggi ragazzi non so cosa dire e volevo agganciarmi dicendo che è importantissimo soprattutto in questo periodo della mia vita dove sto producendo un sacco e mi sto concedendo pochissimi svaghi mentali il fatto di leggere perché alla fine io mi sveglio la mattina e inizio a registrare corsi, a scrivere articoli eccetera e non mi do più quella libertà mentale di pensare, di riflettere, di leggere, di informarmi di altri fonti quindi veramente a un certo punto diventa indispensabile per trovare altre ispirazioni leggere, leggere libri perché alla fine ragazzi voi direte ma cavoli è pieno di gente fuori che lavora tutto il giorno sui propri progetti e alla fine comunque trova sempre qualcosa da dire in un podcast o in un video ed è vero ma come fanno? oltre ad avere l'esperienza che mi sto tirando fuori io pian piano secondo me anche si informano un sacco cioè leggono, hanno degli articoli, scornano i feed di twitter eccetera 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 in questo modo che può sembrare una perdita di tempo o una cosa inconcludente in realtà ti dai nutrimento alla tua mente e ti vengono fuori delle idee incredibili quindi ad esempio è venuto fuori l'articolo di ieri su donare crypto all'Ucraina perché ho appunto letto questo tweet la mattina, non ne sapevo dell'esistenza e oggi siamo qua a aver donato questi 50 doni ma insomma se volete andare a vedere come si fa dovete andare su www.minano.it slash ucraina e trovate tutto quello che vi serve sapere per donare Ether, Bitcoin eccetera 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 quindi qualsiasi cosa volete potete andare a fare però la cosa bella è stata appunto il fatto che dal nulla ho tirato fuori un episodio la mia illuminazione di oggi invece che mi è arrivata a prendere l'app di Anko subito prima di premere il tasto record è che nell'episodio di ieri si chiamava come gestisco i 900 euro guadagnati e ha fatto 49 ascolti in un giorno solitamente tendono ad arrivare attorno ai 68-70 ok gli ascolti dell'episodio del podcast dopo i 3-4 giorni e poi lì si fermano allora ho detto cavoli questo è tantissimo perché 49 dopo neanche 24 ore è veramente tanto e mi sono chiesto come mai c'è questa discrepanza rispetto ai soliti numeri e ciò riflettuto un po' sono andato a leggere i vecchi titoli solamente i titoli ragazze quindi non che ci sia questa gran innovazione da fare e ho visto che effettivamente i titoli che contengono parole chiavi come regalo guadagni, guadagno, 900 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 500 euro cripto, bitcoin, ethereum o hanno degli ascolti per diventare ricchi ad esempio hanno degli ascolti che sono pazzeschi e questa cosa, pazzeschi vanno un più 20-30% comodo rispetto agli altri numeri che su 50-70-80 ascolti non fa la differenza però una volta che lo capisci migliori e migliori sempre di più e l'aumento diventa abbastanza ovvio però qual è la cosa interessante? la cosa interessante ragazzi qui direte beh fai solo episodi dove parli di soldi dove metti nel titolo soldi guadagni eccetera 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 così ti togli il problema sì bello l'idea c'è tutta però qual è il però ragazzi? il però è che bisogna poi avere qualcosa da dire all'interno dell'episodio perché non si può sempre andare di clickbait andare di dire cavoli ragazzi fate questo guardate questo soldi guadagnati 1000 euro 10.000 euro, 100.000 euro ok? lo puoi fare una o due volte ma alla lunga non è una strategia che puoi sostenere perché? perché non ce ne può parlare così tanto di soldi almeno almeno finora perché? cos'è successo? è successo che da quando ho attivato il sito di corsi da quando ho iniziato a guadagnare questi 400-500 euro al mese solamente di affezioni di adsense eccetera ho capito che effettivamente posso pian piano iniziare a parlare anch'io di soldi non di crescita personale di cose un po' più fumose come facevo finora perché? perché finora era quello che potevo offrire cioè nulla riguardo ai guadagni nulla riguardo a grosse cifre bensì solo cose riguardo alle mie riflessioni ai miei pensieri al mio percorso di crescita però adesso ragazzi nel quale il nostro percorso di crescita ha fatto una svolta era auspicabile che arrivasse ci speravo molto ed è arrivata perché appunto questi ultimi due mesi ci ha portato oltre 900 euro di guadagni è ora di iniziare a farli fruttare sia come soldi sia anche come argomenti come discussioni che possiamo trattare quindi veramente credo che sia interessantissima questa cosa qua a livello di a livello di titoli che potrò fare a livello di contenuti nell'episodio del podcast che potrò fare anche perché appunto dovendo necessariamente trovare dei corsi dei contenuti da importare su anch'io appunto diventeroveglione.it vengo spinto sempre più a cercare nuove fonti di guadagno e questo è veramente una figata perché perché può uscire un episodio che si chiama come ho guadagnato 100 euro in un giorno bada bim bada boom sicuramente lo farò appena riuscirò a guadagnare 100 euro in un giorno ovviamente ma avrà un sacco di un sacco di ascolti per ovvie ragioni perché perché se metti come ho guadagnato 100 euro in un giorno puoi farlo anche tu diventa ricco così basta quello sicuramente supera i 100 ascolti nell'arco di 2-3 giorni che appena riesco a farlo ne parleremo però sono abbastanza convinto che questa cosa accadrà ed è bello perché appunto come dicevamo penso di aver trovato una svolta sulla crescita del podcast alla fine ok abbiamo capito che questi 60 70 ascolti sono quelli più più che sono più legati al podcast e di conseguenza questi ascoltano indipendentemente dal titolo ascoltano l'episodio mentre vanno a lavoro fanno quello che devono fare e boh via così rimangono aggiornati sul percorso però noi vogliamo anche iniziare a catturare quelli più quelli più distanti non è vero quelli che cercano solamente il titolo di un episodio e gli appare in lista quindi appunto 1000 euro 10.000 euro come diventare ricco eccetera 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 questi li catturi parlando di di quegli argomenti là e a loro non interessa niente il mio percorso almeno non interessa niente il mio percorso finché non mi conosco una volta che ascoltano un paio di episodi magari si fidelizzano però appunto iniziare ad aprirsi al mondo parlando di argomenti più mainstream o che interessano più persone può essere sicuramente un'ottima soluzione per arrivare ad aumentare questi ascolti che ormai sono fermi stagnanti a 70 mi serve adesso vado a vedere al volo sì a 70 quindi siamo sempre là ragazzi però questa secondo me è un'ottima idea per migliorare la resa di questo podcast che ormai è giunta l'ora passata anche di fare la svolta anche qua poi sempre a proposito del podcast ragazzi vi lancio un assist perché ieri mia moglie alla quale ho attivato le notifiche dell'uscita del podcast dei miei episodi sul suo cellulare ancora tanto tempo fa ogni mattina si becca il plin plin guarda che diventerò milionario e ho lasciato un nuovo episodio e niente solitamente se gli interessa il titolo per l'appunto lo ascolta se non gli interessa lo ignora e avanti così ieri mi ha fatto una domanda che mi ha fatto riflettere abbastanza ovvero appunto l'episodio si chiamava come gestisco i 900 euro che ho guadagnato e lei arriva a casa e mi guarda e mi fa ma puoi dirmi come intendi gestire quei 900 euro che non ho voglia di ascoltare l'episodio e glielo ho detto ovviamente ma la cosa che mi ha fatto riflettere è stata beh magari è utile a molte persone che sono meno ascoltatrici e più lettrici avere un riassunto veloce e rapido di quello che contiene il podcast quindi adesso ragazzi vi lascio questo assist se anche voi ritente che potrebbe interessarvi avere non dico una trascrizione parola per parola perché al momento non ho le risorse né finanziarie né di tempo per farlo e neanche di energie per farlo però se vi dovesse interessare che poi tra l'altro ma fa culo al fine è un articolo gratis al giorno da riflettere però prima di buttarmi questa avventura ulteriore sarebbe bello avere un feedback da parte vostra perché appunto ragazzi cioè mi piace sapere se le cose che propongo hanno senso possono trovare interesse da parte vostra e quindi lascio a voi la valutazione di quello che di quello che vi ho proposto fatemelo sapere come al solito infocchioccio diventano milano.it o nel gruppo telegram che è diventerò milano.it slash telegram vedete ridiretti al gruppo relativo anche perché ragazzi alla fine diciamo c'è al momento avendo rilasciato il sito anch'io appunto diventerò milano.it la preoccupazione mentale del doversi creare un prodotto è abbastanza andata scemando adesso il prodotto c'è la proposta c'è la proposta è buona quello che devo portare adesso al di fuori quindi al pubblico a voi ascoltatori e lettori e visualizzatori dei video è definibile con una sola parola che è molto semplice tanto semplice quanto difficile da fare che è valore cioè devo iniziare veramente a dare super 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 qualità agli episodi agli articoli eccetera 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 perché non manca però va aumentato e va enfatizzato quindi a letto di quello che sarà su anch'io potete intervento milano.it mi sono mangiato le parole perché ragazzi continuo ad avere il naso tappato in maniera incredibile ormai diventerà il mio segno distintivo come il timido alla tosse Giacomo al naso tappato è veramente una cosa assurda e insopportabile vi chiedo scusa se risulterò con una voce fastidiosa ma non riuscirò a respirare tende ad essere fastidioso alla lunga quindi mi mangio le parole ma perché so che conoscete ormai questi siti se no ve li trovate in descrizione comunque tornando a noi dalle valore perché alla fine è bello farsi le paranoie direi sì allora faccio questo così loro fanno questo aumento il prezzo che sì tutto bellissimo tutto perfetto ma il motivo per acquistare quando è che lo dai un motivo per dire per far contente le persone quando è che glielo dai perché è tutto bello chiedere soldi ma anche dare qualcosa è ancora più bello e ancora più senso rende ancora più sensato l'acquisto da parte degli altri quindi parola chiave di marzo ragazzi valore e basta con questo chiudere non so quanto lungo sia questo episodio ma veramente sto andando in apnea quindi lo chiudo qua sono Giacomo diventerò milionario in sei anni vi ricordo che se volete potete trovarmi su diventerò milionario punto it altrimenti c'è il sito anche io diventerò milionario punto it che conterà sempre più corsi oggi inizio a fare quello per creare un un blog e monetizzarlo e fino al lunedì 7 marzo l'iscrizione costa 17 euro una tantum dopodiché ovviamente aumenterà perché perché aumenterà il valore ragazzi valore parola chiave ricordatevelo ci sentiamo alla prossima ovvero domani ciao ciao buona giornata grazie a tutti